Ciao a tutti amici di Avora Magazine, in questo video dopo avervi presentato le differenti overview andremo a vedere quelle che sono le caratteristiche del Samsung Galaxy S5 parliamo subito delle dimensioni, ha un'altezza di 142 mm, una larghezza di 72,5 mm e uno spessore di 8,1 mm andiamo a vedere subito le dosazioni, prima di parlare delle differenti caratteristiche sulla parte superiore abbiamo l'ingresso per il jack da 3,5 mm di fianco rispettivamente i tasti volume e il tasto accensione in mezzo il tasto home che supporta anche la parte del riconoscimento delle impronte digitali che vedremo successivamente nella parte sotto abbiamo la parte del connettore che riguarda l'ingresso della porta USB 3.0 naturalmente sdoppiata perché potremo utilizzare la parte del microSD per ricaricarlo e per gestirlo correttamente anche per il trasferimento dei dati per quanto riguarda la parte dello schermo stiamo parlando di un fantastico schermo super AMOLED e naturalmente un multitouch con risoluzione full HD quindi 1920x1080 la diagonale è di 5,1 quindi stiamo parlando di uno schermo da 5,1 pollici il processore all'interno è un quad core da 2,5 giga per questo stiamo parlando di un Qualcomm Snapdragon 800 e la sigla è MSM897-4AC per quanto riguarda invece la GPU quindi il comparto video parliamo di un Adreno 330 che supporta a pieno e al massimo tutti quelli che possono essere le renderizzazioni di alto livello praticamente quelle che troviamo nei giochi che sfruttano molto bene la grafica per quanto riguarda la RAM abbiamo all'interno 2 GB di DR3 e invece per quanto riguarda la parte dello storage abbiamo i due differenti tagli da 16 e 32 GB naturalmente come abbiamo fatto vedere nel primo video dell'unboxing è presente uno slot di estensione per la micro SD e naturalmente potrete estendere da 4,8,16 a 32 GB naturalmente potrete inserire anche una da 64 GB per quanto riguarda le camere con i rispettivi sensori la frontale è da 2 megapixel con una definizione HD mentre la parte della camera posteriore è da 16 MP registrazioni in Full HD, foto naturalmente Full HD per quanto riguarda la parte del GPS è presente sia il modulo hardware sia la GPS quindi la possibilità di utilizzarlo con la rete per migliorare quella che è la posizione un board troviamo Android 4.4.2 per quanto riguarda la parte del wifi e supporta tutti i tipi di protocolli naturalmente come abbiamo anticipato c'è la possibilità anche di utilizzare l'impronta digitale per sbloccarlo e anche per altre operazioni inoltre abbiamo effettuato i test per quanto riguarda le performance con Quadrant e AnTuTu per quanto riguarda Quadrant abbiamo un valore di 23.076 possiamo andare a vedere quello che è la griglia in generale della top 10 di AnTuTu dei vari benchmark e vediamo in quarta posizione il nostro Samsung Galaxy S5 andiamo a vedere in realtime un video da YouTube e alziamo il volume potete è ottimale anche la visualizzazione è sicuramente molto bella da vedere grazie a questo schermo super amulente per quanto riguarda la parte della batteria la durata in azione quindi una volta che l'avete acquistato l'avete utilizzato per un po' non supera i tre giorni naturalmente stiamo parlando di un utilizzo continuo e quotidiano almeno il nostro sempre attivo sempre acceso senza risparmere nessuna risorsa anche se dobbiamo dire che con il risparmio energetico e una nuova funzionalità inserita da Samsung qui all'interno della Galaxy S5 che trovate nella parte delle impostazioni troverete subito a vostro agio perché con questo tipo di risparmio energetico vi garantirà il mantenimento della batteria a livelli davvero non altissimi ma di buon livello quindi superiori rispetto anche ad altri dispositivi che andremo a confrontare vi ricordo di scaricare la nostra applicazione del Google Play Store che è l'applicazione del forum di AVR Magazine la trovate naturalmente sul Google Play Store digitando forum AVR Magazine potrete ricevere supporto su tutta quella che è la Galaxy S5 in tutte le sue parti per questa video recensione è tutto noi ci rivediamo alla prossima ciao a tutti